In ogni borgata contadina era presente il falegname, o anche più di uno, ed il favro. Due artigiani fondamentali per quanto riguarda le zone agricole, perché erano loro che costruivano i attrezzi di lavoro. Come abbiamo detto prima, il carro e poi tutto quello che segue, tutti gli altri attrezzi minori, ma ugualmente importanti e utili per la lavorazione del terreno. Utilizzavano naturalmente il legno della zona, in particolare legni duri per quanto riguarda attrezzi di particolare uso, legni più teneri per quanto riguarda le costruzioni delle cassette dell'uva. Grazie a tutti!